Benvenuti sul mio canale, oggi condivido con voi la ricetta per preparare i sofficini ripieni. Iniziamo! Per preparare questa ricetta ci servono 100 ml di latte, 200 g di farina 00, 20 g di burro, un cucchiaino piccolo di sale, del pan grattato e un uovo diluito con un po' di latte e sbattuto. Per il ripieno, spinaci e mozzarella. Per prima cosa, all'interno di una casseruola vi vado a mettere il latte e lo forto ad ebollizione. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, spengo la fiamma e vado ad aggiungere il burro, il sale e la farina. Quindi a questo punto, con l'aiuto di un mistolo di legno, inizio a mescolare velocemente formando una pallina. Formatosi l'impasto, lo vado a prendere con le mani e lo metto all'interno della pellicola e lo lascio riposare finché non si sfredda del tutto. Una volta sfreddato l'impasto, lo vado a lavorare su un piano di lavoro con sparso di farina. Basta lavorarlo per poco per renderlo liscio. A questi punti formo la pallina e la vado a stendere. Ovviamente scegliete a piacere la forma che volete dare ai vostri sofficini, io ho scelto questo piccolo coppapasta rotondo. Recupero la parte di impasto che rimane all'esterno dei cerchietti, la continuo a lavorare sempre allo stesso modo e continuo a formare dei cerchietti fino a consumare tutto l'impasto. Adesso si procede con il ripieno dei sofficini, mettendo pochissimi spinaci e poca mozzarella e chiudendo con un altro discetto in questo modo. Attenzione a non riempirli molto, adesso molto delicatamente si vanno a passare prima nell'uovo e poi nel pan grattato. Quindi procediamo con questa operazione fino a riempirli tutti. Finiti di chiudere e di infanare, le andiamo a friggere. Due cose importanti, l'olio deve essere molto caldo e i sofficini non devono cuocere tanto, basta veramente 30-40 secondi. Il risultato finale, credetemi, è streficioso, sono veramente croccanti e buonissimi. E soprattutto potete sbizzarrirvi sul ripieno. Se questa ricetta vi è piaciuta vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccando sul campanellino per rimanere sempre aggiornati.